Il Milan vince 2 a 1 al Sanjay Spark in Inghilterra sul campo del Newcastle, ma non completa l'impresa di restare in Champions League. Infatti in Germania Borussia Dortmund e PSG pareggiano 1 a 1 e passano agli ottavi di finale come prima e seconda classificata del gruppo F. I rossoneri che hanno la forza di ribaltare il vantaggio iniziale della squadra inglese con Pulisic e Ciuqueze vincono 2 a 1 una partita importante e quindi retrocedono in Europa League dove ora le aspetta il playoff a febbraio. Lunedì ci sarà il sorteggio e si conoscerà la squadra che il Milan affronterà nelle prime due partite, sarà andata a ritorno di Europa League, quindi il Milan parteciperà al playoff. Primo tempo dove la squadra rossonera è stata praticamente schiacciata dagli inglesi, nel secondo tempo ci è arrivato subito il pareggio di Pulisic dopo 10 minuti. Poi un altro miracolo di Magnan ha salvato i rossoneri dal 2 a 1 per la squadra inglese e poi nel finale è arrivato il gol di Ciuqueze. Ci sono stati anche di mezzo il palo di Tomori, un'occasione di Teornandez a porta vuota dove invece di proseguire con la palla o passarla di nuovo a Ciuqueze oppure tentare la concussione ha cercato il gol dal centro campo, la palla è finita fuori e quindi la partita non è stata chiusa prima. Però rossoneri che portano a casa una vittoria meritata o no a questo punto non interessa ma il cammino europeo del Milan continua, anche se in Europa League.